oggi parliamo di parafanghi sono gilberto siete sul mio canale incominciamo allora parliamo pochettino di parafanghi ovviamente il periodo di pioggia e di fango che abbiamo tutti i giorni ovviamente chi vuole uscire in bici un pochettino si deve riparare dal fango allora questi qua sono i parafanghi normali che comunque si trovano che costano anche poco io tra l'altro ne avevo fatto serigrafare serigrafare uno e invece una cosa che ho trovato molto molto belle specialmente ovviamente sono andato su amazon come tutti noi a cercare qualcosa di particolare ho trovato questo qua della zefal anteriore che tra l'altro ho provato a modificarla vedere se riuscivo a modificarla mentre la posteriore ovviamente non ci sono riuscito l'ho messo dove era al suo posto sulla ruota anteriore devo dire che è fatto molto molto bene bello resistente la cosa che mi piace veramente tanto è il fatto che comunque si può fermare con i suoi velcro che tra l'altro vengono dati in dotazione insieme mi sposto un attimo ho tutta la roba lì pronta sul tavolino praticamente viene arriva con degli adesivi di diversi colori tra l'altro giallo chiedo scusa verde rosso e azzurro con le sue fascette è una cosa veramente bella adesso vi faccio vedere senza far troppo casino praticamente arriva che con queste piccole piccole guarnizioni dove viene inserita la fascetta non so se si vede perché io purtroppo essendo con la maglia nera non so se si vede poco addirittura serve per proteggere diciamo lo stelo del della forcella molto molto utile questo qua invece la cosa interessante che ovviamente sono sempre stata alla ricerca ne ho provati e modificati veramente tanti è il parafango posteriore questo qua praticamente è rrp pro guarda è un bellissimo parafango tra l'altro è anche modellabile il problema mio ma immagino come molti di voi praticamente alla ruota da 29 per 2.6 per cui molto molto grossa abbiamo poco spazio ma questo qua effettivamente si incastra molto molto bene ovviamente ci rimane scoperto l'ultimo pezzettino qua dove si va sempre a restagnare molto molto fango per cui ho preso uno dei tanti dei tanti parafanghi e l'ho modificato questo qua l'ho ritagliato e direi che direi che dai le montiamo e vediamo un attimino così cerco di farvi rendere conto come come rimangono allora ragazzi eccoci qua adesso vi ho cercato di mettere l'inquadratura in prima persona ovviamente li ho già li ho già montati i parafanghi anche perché per mettere quattro fascette fare un video mi sembrava una roba incredibile allora questo qua praticamente è il parafango come lo vedete tra l'altro molto solido si fissa molto semplicemente come avete visto con questi velcri è molto molto fermo io devo dire che mi trovo veramente bene anche bello poi nella 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 sua forma mi ripara molto qua sotto specialmente qua che si riempiva di fango incredibilmente passiamo ai parafanghi posteriori questa quella linguettina quella che vi avevo montato prima spero che si veda direi di sì prendete ciò due fascette di qua due fascette di là come vedete piccolina più caldo per non far sì che che si fermi tutto il fango proprio in questo punto qua come dice rimane un pochettino più di luce ma di più non si riesce al limite poi in fase quando andrò a stringere ancora di più magari cercherò di sistemarli meglio diciamo che quello che mi piace veramente tanto è proprio questo questo parafango proprio per come è fatto ed è anche devo dire anche gradevole come mettere il fatto che ha fusolato diciamo l'aggancio praticamente si presta molto molto bene tra l'altro con questi tre con questi tre agganci direi che perfetto anche poi nel montare nel sistemarlo da dire altre cose per mettere delle fascette mi sembra veramente veramente elementare ma più che altro volevo far vedere questo tipo di parafango ovviamente ho messo sul mio il mio adesivo quindi ricordate rrp comunque program con cui vi lascio poi il link sotto in descrizione e come vedete adesso da sistemare ma perché c'è ancora qua le fascette eccole qua se era questa fascetta qua che sono sono ancora sono queste qua sono ancora da tirare che chiedo scusa non avendo le tirate effettivamente sono ancora un pochettino molli vedo se questo qua era un po troppo molle e non vero erano tutte molle tant'è che adesso le ho tirate gira perfettamente bene è ovvio che avendo una ruota una ruota così grossa e quando si fermano i sassolini addirittura il nocce di olimo un po di fastidio lo danno ma me cosa che mi interessa è salvaguardare praticamente questo archetto qua che non mi si formi poi tanto tanto fango tant'è che quando avevo smontato il motore questo qua ce l'ho sempre avuto il motore devo dire che all'interno era veramente veramente pulito adesso poi mi diverto un attimino da tagliare queste fascette io un consiglio che vi do ma immagino che ci arrivate anche da soli generalmente quando metto questa fascette le lascio sempre piegate qua sotto più che altro con la gamba da non picchiarci dentro perché la fascetta anche quando è tagliata fa un po male anche queste qua poi li do poi una sistematina faccio delle piccole inquadrature di come di come rimane il parafango eccoci qua ragazzi abbiamo terminato il montaggio dei parafanghi questo anteriore gli ho dato solo una giustattina più che altro nel tirare bene i velcri qua ha tagliato le fascette gli ho dato ancora una sistematina la ruota devo dire che gira molto bene c'è ragazzi che dire non ci resta che andarci a buttare nel fango e provare effettivamente come funzionano diciamo questi parafanghi eccoci qua ragazzi allora abbiamo fatto la discesa che vedete qua dietro fiatone perché comunque è molto molto impegnativa allora però io devo dire che fango ce n'è non tantissimo pensavo che ce ne fosse molto di più ma vi faccio vedere praticamente che comunque qua fango se ne se ne è formato molto molto poco a parte qualcosa ma devo dire che comunque davanti davanti sempre e sempre molto più tranquillo comunque venendo a noi come vedete il parafango eccezionale piace veramente veramente tantissimo e devo dire che fa benissimo il suo lavoro è uno dei più più belli che che ho avuto e per cui per me è promosso di celode e poi come avete visto anche il piccolino che mi sono fatto sotto che devo dire che funziona veramente veramente bene come avete visto io al limite poi se qualcuno ha bisogno gli faccio anche un disegno in formato reale e ve lo invio lasciatemelo sotto nei commenti e niente dai ritorniamo in studio per questo video vi sia stato utile ci vediamo poi alla prossima ciao ragazzi ciao